Nuovo appuntamento settimanale con la dottoressa Elvira Serra dedicato alla rubrica In Salute. Oggi la dottoressa vi parlerà dell'ipertensione. Allora dottoressa che cos'è l'ipertensione e come tenerla sotto controllo? Ritorniamo oggi con una patologia che è molto comune perché milioni di persone soffrono. L'ipertensione è un aumento della pressione arteriosa che va al di là dei numeri riconosciuti come normali. Ricordiamoci che una pressione che va dai 138 fino a 89 è ancora una pressione normale. Se non c'è una comorbilità che vuol dire che se ci sono altri fattori quindi insieme a questa pressione, questa pressione può essere alta. Quindi è normale in un individuo che non ha altri fattori di rischio. Non è più normale in pazienti che hanno invece altri fattori di rischio quali possono essere l'obesità, la sedentarietà, la familiarità, il colesterolo, i trigliceridi. Quindi questi sono fattori di rischio che insieme ad una pressione più alta, il diabete, non dimentichiamo il diabete e quindi ad esempio in un paziente diabetico la pressione non dovrebbe superare i 120-80 e quindi come vedete anche il limite che noi ci poniamo per una persona normale, dei 139-89 che sono normali, non sono normali invece una persona che è affetta anche da altre patologie. Noi dovremmo fare delle misurazioni sia ambulatoriali quindi dal nostro medico ma anche delle automisurazioni. L'automisurazione con un piccolo apparecchietto comprato in farmacia o nella nostra parafarmacia in relax dopo che abbiamo quantomeno bevuto un caffè da almeno mezz'ora quindi seduti su una sedia comoda, rilassati, una sedia con uno schienale alto in modo che si è in perfetto relax. A quel punto il nostro paziente misura la pressione. Perché io dico l'automisurazione? Perché oggi è molto importante misurare la pressione quando siamo nelle condizioni migliori. Immaginate il nostro paziente che va a misurare la pressione in farmacia. Quindi parcheggia la macchina, scende velocemente, fa una corsa, all'impiedi magari misura questa pressione. Potete immaginare se quello sarà il valore reale. Quindi benvenga l'automisurazione, benvenga il controllo del medico. Quindi le misurazioni vengono fatte più volte, vengono portate al proprio medico se non sono per voi normali. E dopodiché voglio passare invece a dei piccoli consigli per lo stile di vita. Lo stile di vita è molto importante. Il sale aumenta la pressione arteriosa. Quindi la dieta deve essere con scarso contenuto di sale perché il sale aumenta la pressione. Cosiddetta dieta iposodica. Ricordiamoci che gli alimenti conservati, anche i formaggi, contengono sale. I metodi di conservazione molto spesso contengono il sale. Le acque oligominerali, quelle lisce, sono da preferire perché le acque frizzanti o le bibite frizzanti contengono bicarbonato di sodio, quindi sale. Ricordiamoci anche di calare di peso perché l'obesità e il sovrappeso è importante dell'ipertensione arteriosa. Il fumo di sigaretta, cerchiamo di abolirlo sempre, ma dà una vasocostrizione e quindi tende ad aumentare la pressione arteriosa. Per quanto riguarda l'attività fisica, facciamo delle lunghe camminate in modo da vasodilatare i nostri vasi e da consentire alla pressione di scendere perché, come abbiamo detto già prima, la sedentarietà non va bene. Spero di non essermi dimenticata nulla per i consigli che vi ho dato. Se avete bisogno di ulteriori consigli scriveteci sulla nostra pagina. A presto, grazie.